PAPA Non venirmi a cercare, sono al sicuro, sto bene Signor Vogel Non dimetto nessuno con questo tipo di infezione PAPA La quarantena è l'unica possibilità Deve seguire le regole Diventerà più aggressiva e pericolosa Io farò qualsiasi cosa per proteggerti Oggi ho per voi delle curiosità dal set di Maze Runner 2 La Fuga Innanzitutto la location è una vera città in New Mexico Che in precedenza era stata usata nella serie di Breaking Bad Invece per le scene girate nei sotterranei è stato scelto un centro commerciale Che ai tempi delle riprese non era ancora totalmente abbandonato Il luogo era così pieno di polvere Che tutti sul set hanno dovuto usare delle maschere Poi Dylan O'Brien che interpreta Thomas Si è dimostrato veramente un vero professionista e un gentleman Allora l'attore è spesso rimasto a girare fino a notte inoltrata E non ha fatto uso di stuntman Proponendosi anche di aiutare i propri colleghi di set Per esempio Kaya Scodelario che nel film interpreta Teresa In difficoltà con le scene d'azione Che bravo Grazie per averci seguito Vi ricordo che potete scaricare la nostra app Sia per Android che iPhone Vi aspetto al prossimo video Ciao a tutti